ce ne sono ho come l'impressione che la situazione ci stia sfuggendo raga qualcuno ha il pull per l'asma? ho visto prima che è incartato qua bagno, bagno, vi siete persi il bagno ragazzi? vi siete persi il bagno? ma io non che siete persi, sapete il nome delle montagne? raga, guardate se c'è un ragazzo nella neve con un porchino intorno come si chiama questo guai? grazie